Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo, dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Gesù disse ai Suoi discepoli, Quando il Figlio dell'Uomo verrà nella Sua gloria, e tutti gli angeli con Lui siederà sul trono della Sua gloria, davanti a Lui verranno radunati tutti i popoli. Quindi, Egli separerà gli uni dagli altri, come il Pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra, e le capre alla sinistra. Allora, il Re dirà a quelli che saranno la sua destra, Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame, e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete, e mi avete dato da bere, ero straniero, e mi avete accolto, nudo, e mi avete vestito, malato, e mi avete visitato, ero in carcere, e siete venuti a trovarmi. Allora, i giusti gli risponderanno, Signore, quando ti abbiamo visto affamato, e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato, e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero, e ti abbiamo accolto, o nudo, e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato, o in carcere, e siamo venuti a visitarti? E il re risponderà a loro, In verità, io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra, via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo, e per i suoi angeli, perché ho avuto fame, e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete, e non mi avete dato da bere, ero straniero, e non mi avete accolto, nudo, e non mi avete vestito, malato, e in carcere, e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno, Signore, quando ti abbiamo visto affamato, o assetato, o straniero, o nudo, o malato, o in carcere, e non ti abbiamo servito, allora, egli risponderà a loro, in verità, io vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non lo avete fatto a me. E se ne andranno, questi al supprizio eterno, i giusti invece, alla vita eterna. Commento al Vangelo della Domenica di Don Luigi, Maria e Epicoco. Quando il Figlio dell'Uomo verrà nella Sua gloria con tutti gli angeli, prenderà posto. Tutto andrà a finire davanti al trono della Sua gloria, così come il Vangelo di oggi ci racconta. Che tradotto significa che, alla fine della storia, e anche della nostra, saremo condotti davanti all'interruttore della luce, e quell'interruttore sarà finalmente acceso. E con la luce accesa si vedrà tutto. Vedremo finalmente la nostra vera faccia. Daremo finalmente un nome a tutti i nodi che ci sono rimasti in gola. Nodi creati dal dolore, dall'indigestione di vita, dalle sbornie, anche delle cose belle. Guardare Dio in faccia significherà per noi capire fino in fondo noi stessi, la nostra storia, la gente amata, e riavere tutto nuovamente nelle nostre mani, però in maniera definitiva. Non ci sarà più notte. Non ci saranno più lacrime a filtrare i nostri orizzonti. E respireremo di nuovo a pieni polmoni, come ci capitava da bambini quando eravamo nelle braccia di nostra madre, o di chiunque ci abbia veramente amato. Sarà bandito l'affanno e i respiri corti della paura e dell'ansia. E i sorrisi adorneranno di rughe benedette i nostri occhi arricciati di gioia, perché abbiamo creduto alla luce accesa quando era buio fitto, cioè quando non potevamo accorgerci che chiunque sfamavamo, accoglievamo, amavamo, curavamo, ascoltavamo, era Dio stesso smescolato di povertà, di ingiustizia, di dolore, di peccato, persino di noi stessi. Nel Vangelo di oggi Cristo ci fa sbirciare il finale perché possiamo trovare il tempo e il coraggio di cambiare il copione degli eventi consegnati alla nostra vita. Non vuole rovinarci la suspense, ma assicurarci di procedere secondo rotte sicure, e amare senza tornaconti è una rotta sicura anche al buio, quando Dio non lo si riconosce, anche perché se c'è una cosa che accomuna i buoni e i cattivi è la medesima domanda. Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere, quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito, quando mai ti abbiamo visto ammalato o in prigione e siamo venuti a trovarti.